bentornati a tutti su agretai ragazzi oggi siamo stati invitati dal consorzio agarare di perugia alla massi ferguson experience ci troviamo a orte e stiamo per andare a fare alcune piccole prove con questi bei trattoroni che vedete per le mie spalle quindi andiamo e cominciamo grazie a tutti Benissimo ragazzi, siamo stati da Tellerbock e ci hanno spiegato un pochino la nuova TM1000 come funziona e abbiamo fatto lì qualche prova con sollevatori, telescopici, corche. Adesso andiamo a provare l'alta gamma 8S, 8700, 6S e 7S, quindi vediamo un pochino cosa esce fuori. Grazie a tutti. Bene ragazzi, la nostra esperienza al Massi Ferguson Experience è finita, ci hanno dato anche un piccolo omaggio e qui stanno riportando i mezzi in formazione, noi andiamo a fare un bel aperitivo e ci vediamo nel prossimo video qui su Agritaly. Fatemi sapere se questo piccolo videoblog vi è piaciuto. Un saluto a tutti.